This is Vitek Tape, show on air every day, indie music from Tavern di Corciano to the world. Ciao a tutti e benvenuti a Vitek Tape, il programma ufficiale di Vitek Records. Io sono Rossella e starò in vostra compagnia per la prossima mezz'ora. Noemi Lorenzini Memi nasce a Palestrina, Roma. Nel 94 vive a Valle Martella una frazione di Zagarolo, Roma. Il suo epidesordio, che succederà a volume 1, esce nel 2015 per Little Bitty Records. Che percorro sta salita, ora sono cresciuta, ho capito la mia strada, voglio mettercela tutta. Ogni rima sarà una spada che trafigge il cuore di chi non ha creduto in me, di quelle persone che ridevano di me. Ma lei c'è sempre stata, lei ma sempre aiutata, lei non se ne è andata. Perciò ne sono grata ed è per lei che adesso mi ritrovo qua, ma forse anche per me, perché voglio una rivincità. Mi guardo intorno, è un nuovo giorno, e mi domando che succederà. Se poi mi fermo, ma non mi arrendo, mi chiedo quando il sole sorgerà. Mi guardo intorno, è un nuovo giorno, e mi domando che succederà. Se poi mi fermo, ma non mi arrendo, mi chiedo quando il sole sorgerà. Sbaglio sempre tutto, colpa delle mie paure, ma alla fine di ogni guerra mi conservo le armature. Quelle volte che ero a terra, mi sono rialzata, ogni volta mi dicevo pure questa è superata. Voglio andare sempre avanti, adesso posso farcela. Raccolgo le mie ansie, le chiudo in una scatola, voglio metterci un punto, fa un culo questa virgola. Tiro fuori vino buono da sta botta piccola, e non mi fermo ormai, adesso ho preso il villa. Io combatterò, questa è la vita mia, ora dico davvero, ho cominciato a crederci. E adesso non mi fermi, giuro puoi scommetterci. Mi guardo intorno, è un nuovo giorno, e mi domando che succederà. Se poi mi fermo, ma non mi arrendo, mi chiedo quando il sole sorgerà. EGIDA, RAPTUS 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti